cari amici di youtube benvenuti a questo mio nuovo video oggi sono in compagnia della mia lavatrice samsung e vi voglio mostrare un po di video di questo lavaggio di capi bianchi il carico consiste in asciugamani tovaglie lenzuola e un po di tutto scusate se se non mi metto proprio di fronte alla lavatrice ma c'ho il cellulare in carica quindi non posso spostarmi più di tanto come si può vedere sperando si veda qualcosa sto usando il programma cotone a 60 gradi con tre risciacqui e centrifuga impostata a mille giri siamo come si vede a un'ora e mezza di lavaggio i tetersi utilizzati sono per il lavaggio principale il dixon classico per il pre lavaggio la candeggina s lunga floreale e la morbidente il lenore che da quella vaschetta abbiamo inserito in questa vaschettina qui per ogni lavaggio la metto qui e poi la metto automaticamente all'ultimo risciacquo quando la macchina arriva all'ultimo risciacquo sperando che non mi faccia bizzecco il cellulare ve lo mostro un po più da vicino a dimenticavo il carico che sta lavando e lo stesso carico che si vede nella mia immagine di google che ho caricato ieri perfetto direi che sta scaldando alla grande saremo sui 50 gradi più o meno vediamo un po 46 e 90 per l'ultimo rischio Buon, oggi è stato un video veloce e direi che può bastare, vi ringrazio per la visione di questo video e a risentirci in un prossimo video. Scusate, facciamo così. Grazie. 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 Grazie.